Benvenuti su News Flash Italia. Vi invitiamo a lasciare un like, commentare e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Grazie! Questa settimana niente doppio appuntamento con il Grande Fratello. Gli appassionati dovranno aspettare fino a lunedì prossimo per scoprire l'esito del televoto eliminatorio che vede in nomination Elena Prestes, Iulia Bruschi, Clayton Norcross, Michael Castorino, Tommaso Franci e Amanda Lecciso. Mediaset ha deciso di sospendere il programma e trasmettere al suo posto la soap Endless Love giovedì sera. Ciò significa che c'è ancora tempo per votare e decidere chi salvare dall'eliminazione. Attualmente Elena sembra essere la preferita dal pubblico, mentre Michael è in fondo alla classifica. Durante la settima puntata sono finiti in nomination sei concorrenti e il pubblico è chiamato a votare per decidere chi dovrà lasciare la casa lunedì prossimo. Secondo i sondaggi Elena è in testa con oltre il 30 per cento delle preferenze, seguita da Tommaso, Clayton, Iulia e Amanda. Michael invece rischia l'eliminazione con solo il 5.16 per cento dei voti. Il portale gradefratello.forumfree conferma che Elena è la favorita del pubblico con oltre il 30 per cento dei voti, seguita da Tommaso, Clayton, Iulia e Amanda. Michael è in fondo alla classifica e rischia di lasciare il reality lunedì prossimo. Resta quindi in attesa della prossima puntata per scoprire chi sarà il prossimo.